Al via da questa mattina i lavori sulla strada provinciale 12 Frentana. Finalmente aprono i cantieri nell'arteria stradale che è finita la ribalta della cronaca per buche, dossi e avvallamenti che hanno portato nel mese di febbraio la provincia dell'Aquila a disporre la chiusura della strada per garantire la sicurezza agli automobilisti e la tutela della pubblica incolumità. Da lì sono partite assemblee e mobilitazioni con il comitato Frentana Aperta che più volte ha sollecitato la provincia dell'Aquila a eseguire lavori e a riaprire la strada per risolvere una volta per tutte le criticità e a consentire la ripresa della circolazione in un punto strategico per la viabilità delle aree montane. L'Ok alla pulizia della strada era arrivata sempre dalla provincia nelle scorse settimane ed oggi sono scattati lavori dopo la raffica di polemiche sulla programmazione dettata dalla provincia dell'Aquila che ha disposto la scorsa settimana prima la riapertura della strada provinciale 54 per Fonte Romana poi l'inizio dei lavori per giugno sulla 487. Questa mattina finalmente lavori che gettano acqua sul fuoco e fanno tirare un respiro di sollievo agli automobilisti.